La soddisfazione è per aver creato questa area naturalistica attorno al Bosco del Quarello. È una cosa molto importante anche perché l'amministrazione ha investito nuovamente. A pochi centinaia di metri abbiamo creato un nuovo bosco urbano in collaborazione con Cassa Depositi Prestiti e Arbolia. Quindi la scelta di avere aree naturalistiche sulla città la sposiamo, la portiamo avanti e continuiamo con questi investimenti. La recente approvazione del piano faunistico venatorio regionale ha rappresentato per Vicenza un deciso passo avanti nella realizzazione di aree protette. Se la provincia di Vicenza resta in Veneto a quella con la minor superficie tutelata, nell'ultimo provvedimento approvato il Consiglio si è data forma in compenso ad una delle aree protette più estese della regione. Protagonista è il comune di Vicenza che ha visto unire le aree dell'Ose di Casale e quella di Monteberico all'Ose del lago di Fimom nel comune di Arcugnano. Tutta vicentina è invece l'Ose del Bosco del Quarello, istituita nel 2007 e che ora si vede ufficialmente riconosciuto come zona dove la caccia è vietata e dove può trovare rifugio la fauna selvatica. 92.000 metri quadrati tra l'autostrada e i corsi d'acqua Selma e Cordano piantumata da aceri, carpeni, salici e frassini. Un'Ose in cui sarà possibile condurre le scolaresche in visita di rapaci, aeroni e pesci, fauna che si sta già impossessando del bosco in tranquillità. Un passo avanti nel perseguire una Vicenza sempre più green, obiettivo primario dell'amministrazione comunale. La valuto positivamente, creare oasi e aree verdi protette e tutelate è fondamentale per il nostro futuro. Lo stiamo dimostrando, abbiamo creato, ripeto, un bosco urbano nuovo e due arriveranno in città. Quindi l'intento di dare sempre maggior numero di aree tutelate e verdi è nelle corde dell'amministrazione e prosegueremo su questa strada.